Non è Mario Cortese, non sei te il negoziante, non è il titolare dell'esse lunga, è il mercato che decide che cosa funziona e cosa no. Il negozio fisico non ha più costi, non fa un lavoro che non fa nessun altro e soprattutto non è l'imprenditore umano, mentre gli altri sono tutti dei pixel o degli squali o dei bastardi incredibili che vogliono uccidere il mercato. Queste sono le tre premesse sbagliate che io ho sempre trovato, purtroppo, come imprenditore dell'online, quindi non ci sono questi tre presupposti per cui il negozio fisico deve sopravvivere. E questa cosa qui va capita perché il tempo avanza e col tempo cambiano le esigenze dei clienti, dal bottegaio medioevo a 2020, uomo che vuole andare su Marte. Se cambiano queste esigenze, qualunque imprenditore, che sia GDO, che sia negozio online, che sia il piccolo negozio sotto casa, deve seguire un unico comandamento, essere dove è il cliente, essere dove il cliente vuole che il suo negoziante sia, avere l'attenzione del suo pubblico di riferimento. Punto. Dopodiché, dovete, ma quelli fanno, ma mi uccide quello. No, no, non è così, non è così. Non vi sta ammazzando Amazon. Vi sta ammazzando essere legati a un modello di imprenditoria che nel 2020 il pubblico, i clienti, hanno selezionato come inefficiente. Perché se c'è un soggetto che in quel modo lì fa business e funziona e si espande, mentre voi perdete terreno e il pubblico lo preferisce, significa che il suo modello funziona. E non ha senso dare colpa alle tasse, al fisco, al governo, alla burocchia. Perché tutti questi soggetti, chi più, chi meno, chi in un modo, chi in un altro, hanno i loro problemi, i loro costi, i loro vantaggi e i loro svantaggi. Quando si parla di versus fra categorie professionali, spesso a farlo, perché è questo che è nato nel nostro gruppo Telegram, cioè, ma come mai i negozi fisici ce l'hanno sempre con gli online e viceversa, si basa su un principio di ignoranza, nel senso letterale del termine, di non conoscenza delle rispettive caratteristiche, dei rispettivi funzionamenti, dei rispettivi bilanci. A valle di questa non conoscenza si crea il pregiudizio e a valle del pregiudizio si crea un atteggiamento sbagliato. I negozi fisici hanno delle peculiarità e hanno dei difetti e il mercato li pesa, esattamente come per i negozi online. Ma voi pensate che l'imprenditore di un negozio online la mattina si alza e si mette a contare i soldi. Io, nove anni fa, quando ho iniziato con mia moglie, vendevamo quattro scatole a settimana e già ci asfaltavano i negozi fisici. Ora, Guido, te che sei formato, a questo punto puoi accedere a Wikipedia, mentre io no. Quanti comuni abbiamo in Italia? Non lo so, non ho idea. 7904, mi dice Guido. Quindi fate quattro su 7904 e quella è la probabilità che un negozio online che vendeva quattro scatole a settimana stesse danneggendo il vostro negozio. E già lì era partito il pregiudizio. Sono nove anni che mi sento dire i negozi online ci distruggono i prezzi, ci distruggono il mercato, ci ammazzano tutti, Amazon, merda, Dungeon Dice, merda, eccetera, eccetera. Ragazzi, fate la matematica, cavolo. Oggi Dungeon Dice vende tanti più prodotti. La maggior parte dei prodotti che vendiamo non li vendiamo a sconto. Sorpresa delle sorprese. Noi abbiamo una fornitissima area outlet e una fornitissima area sconti. Eppure, se io faccio il saldo giornaliero e lo faccio perché sto attento a quello che vendo ogni giorno, ho venduto l'80% dei prodotti a prezzo pieno. Quindi che cosa significa che non è la politica di prezzo che mi permette di stare in piedi? Perché vende a prezzo pieno come un negozio fisico normale, ma avendo tutti quei costi che il negozio fisico non ha, tipo la spedizione, che impatta tantissimo, da 5 a 8-9 euro di costo vivo sul margine del prodotto, non sul costo del prodotto, sul margine vivo del prodotto. Quindi, se vi dico che quella percentuale la facciamo con prodotti non a sconto, anche perché non sarebbe possibile avere un team di 10, 12, 14, non so manco più quanto siamo, se non avessimo del margine. Cioè, lo capite che se non ce la fate voi col margine, siete una persona, un negozio, un affitto, non ce la posso fare io con una struttura molto più grande. Dov'è il grande gap? È che i negozi online, per genetica, per genetica, hanno un livello di adattabilità al mercato infinitamente superiore al negozio fisico che basa le sue idee di mercato su dei concetti fondamentalmente antiquati. Cioè, il negozio online si trova a competere con dei mostri del digital, tipo Amazon, che ogni minuto, ogni istante, ogni secondo, innova. Cioè, io sto perdendo tutta la mia energia fisica, e lo faccio stravolentieri, in queste due ore di Q&A Live, a parlare di un tema che a me è molto caro, e sono contentissimo che il gruppo Telegram me l'abbia chiesto, ma in queste due ore, il signor Jeff Bezos, proprietario di Amazon, e tutto il suo team, hanno già scritto il futuro dei prossimi 15 anni del commercio. I prossimi 15 anni? Per capirci, io domani entro in ufficio, di sabato mattina, e devo pensare, da piccolo imprenditore di provincia, quali sono, perché ho una piccola impresa, come fare a sopravvivere alla legnata che mi può dare Jeff Bezos dopo domani, per i prossimi 15 anni. Non per i prossimi due giorni, per i prossimi 15 anni. Capite bene che un problema sostanziale che io individuo nel versus è che ci sono modelli che devono competere ad altissimo livello e quindi tendono a geneticamente adattarsi velocemente per sopravvivere. altri modelli entrano in regimi precostituiti e pensano che quel regime precostituito durerà per sempre. Cioè, la differenza sostanziale, il grande versus, non è sul prezzo, è sulla voglia di adeguarsi al mercato e laddove il mercato sta andando. Perché noi, Dungeon Dice, domani può chiudere bottega e ne lasceranno 62 diversi che faranno operazioni ancora più incomprensibili, ancora più insensate agli occhi di chi le guarda, continuando a divorare il mercato. Perché è il consumatore che decide il mercato, non è l'imprenditore. L'imprenditore intelligente va dove il mercato chiede. È l'offerta che insegue la domanda. Non è l'offerta che decide cosa deve fare la domanda. Io da domani posso decidere su Dungeon Dice che tutti i giochi vengono pagati il doppio e che le spese di spedizione costano 40 euro. Quanti clienti pensate che abbia Dungeon Dice dopo 20 minuti da questo comunicato stampa? Zero. Non solo. Decido che smetto di tenere i prodotti a smodì. Quanti clienti perdo in un giorno? Quasi tutti. Perché non posso decidere io che cosa il mio cliente desideri e non posso immaginare un mondo dove tutta la concorrenza sparisce e io ho un monopolio e faccio come mi pare. Signori miei, se gli online finiscono vi aprono 42 negozi davanti casa. 42 negozi. Che anche se non vendono tutti i giochi scatola magari vendono le scinesate magari un Tiger magari vendono i retrocloni magari vendono i giocattoli magari vendono le cartine per Netflix comunque contendono il portafoglio dell'intrattenimento del vostro cliente potenziale. Consequenzialmente voi state ipotizzando un mondo senza concorrenza non un mondo senza sconti. Perché non sono gli sconti a muovere i clienti. È il sistema, è l'organizzazione, è il mercato, è i vantaggi, è la comodità, è il desiderio della vostra buyer persona che decide dove andrà il mercato domani e che cosa dovete fare per rimanere sul mercato. Non è Mario Cortese, non siete il negoziante, non è il titolare dell'esse lunga. È il mercato che decide che cosa funziona e cosa no. E l'ecosistema del mercato non lo controlla un solo soggetto. Un solo soggetto si può adeguare, può innovare, può avere un'idea che viene seguita o a volte copiare l'idea di un altro, ma deve stare alle regole di mercato.